Sabiamo che durante la pandemia a gente aveva che fechare la loja Pelo meno al pubblico E a gente lavorò solo con delif Aí ovviamente a gente decidiu Debido a gastos Che in quel momento erano totalmente inutili Tipo ligare una vetrina Che Sabiamo che gasta abbastanza energia Perché A cada 10 minuti Dependendo di temperatura e varie cose A cada 5-10 minuti Il compressor comincia a girare il frio Il ventilatore funzionando Eccetera A gente decidiu Desligare i vetrini A gente tendo i freezers Desligare uno dei freezers E Desidiamo di passare A conservare il nostro sorveggio Per la venda delivery Nel momento Dentro di un congelatore Un congelatore Da Freecom Si, una freezer horizontal Una freezer horizontal Che costa Quattro mil reais Deo certo Deo certo Por quê? Porque Sabiamo che Non è come una vetrina Perché A vetrina In ventilazione Digamos Tem Una Distribuzione No frio No frio Mais homogene A vetrina É Digamos È feita Por isso Para Deixare Esse frio Mais homogene Quando dentro De un congelatore De un freezer Temos In cima Mais quente Meio Mais o meno Se coloca E a regula Temperatura Si Lato è Uno Dois Tre Quattro E poi A gente Regulò A temperatura Como Termometro Dentro Do congelador Mais o meno No Se coloca Sempre Do lado Do meio No Dos dois lados E no meio Para Ver una temperatura Média Porque Aí Non Tem Una Temperatura Costante Para Ver A temperatura Média E baseado Nessa temperatura A gente Trocò Nossas Resetas Pelo Menos Naquela Épo Ou seja Graças Ao Balanzamento Conseguimo Di Alguna Forma Criar Un Sorvecci Para Traballar Dentro Di Un Freezer Normal Out